Grazie Presidente, mi preme sottolineare come si presenta subito bene il nuovo gruppo di Forza Italia, erano tutti presenti quando parlava il Vicepresidente Mantovani, dopo due minuti si parla di un progetto di legge che dovrebbe riguardare l'identità di questo Consiglio, di questa Regione e dei nostri cittadini e chiaramente l'Aula si svuota per quanto riguarda loro, quindi volevo fare questa sottolineatura all'inizio perché questa maggioranza ha portato avanti con forza questo provvedimento e quando poi viene in aula se ne lava completamente le mani, preferiscono magari fare qualche intervista, parlare di grandi progetti politici, ma di quello che importa, la cultura, l'identità regionale e i problemi veri e propri dei cittadini se ne lavano spesso le mani, quindi questo era per me importante ribadirlo perché davvero io lo ritengo una cosa vergognosa, l'abbiamo visto anche settimana scorsa che la maggior parte dei consiglieri o buona parte dei consiglieri durante i lavori d'Aula prendano e se ne vadano e non rispettino l'Aula e questo Consiglio. Questa era una premessa. Per quanto riguarda il progetto di legge 26, noi abbiamo votato a favore in sede di Commissione, abbiamo votato a favore perché noi cerchiamo di entrare nei contenuti e cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Oggi stiamo parlando di un adempimento dell'articolo 1 dello Statuto, un adempimento che andava fatto, forse andava fatto già anni fa, siamo molto, aveva 4 anni il consigliere Pizzul però sono tanti, andava fatto qualche anno fa, siamo in ritardo, è una cosa che va fatta, non ci ha fatto perdere molto tempo, non ci costa dei soldi, è comunque importante, come succede in altre regioni, identificare una giornata attorno alla quale tutti i cittadini lombardi possono realmente identificarsi e secondo noi è vero, c'erano anche altre date che potevano essere proposte, ma anche la battaglia di Legnano poteva andar bene, noi sappiamo che la battaglia di Legnano rappresenta l'unione dei comuni che si mettono insieme per difendere i propri cittadini. A noi poco importa se un partito politico abbia cercato di appropriarsi di quella che è la storia e la cultura di questo luogo, non importa quello che è la storia e la cultura del luogo, quindi un partito può fare quello che vuole, può decidere di appropriarsi, ma la storia appartiene a un popolo, appartiene a dei cittadini e non a un partito politico, noi questo lo vogliamo ricordare perché per noi è molto importante. Dicevo, i comuni si uniscono e difendono i cittadini, ecco, se un partito crede di appropriarsi di questo momento storico si sbaglia di grosso e l'ha dimostrato nei suoi atteggiamenti negli ultimi vent'anni, non ha difeso i suoi cittadini quando è andato a Roma come ha promesso e non lo difende tuttora, posso citare diversi esempi, posso citare una mozione votata da tutti i gruppi politici nel Consiglio per difendere i cittadini per quanto riguarda l'autostrada a Romonza, questo Consiglio è espressione di 10 milioni di lombardi, ha preso un orientamento chiaro in difesa dei suoi cittadini, la Giunta prosegue e se ne lava le mani della scelta e della difesa dei propri cittadini e di quello che vogliono. Posso ricordarlo per quanto riguarda la formazione dove erano previsti 30 milioni di euro e c'è stato un taglio fino a 5 milioni per la difesa delle persone che vivono dei momenti di difficoltà che dovrebbero garantire la possibilità ai propri figli di andare a scuola e di avere un minimo di materiale scolastico, questa per me è la difesa dei cittadini e questo è quello che rappresenta storicamente per me la difesa dei cittadini, oggi questa Giunta non sta andando in questa direzione. Secondo noi è molto importante rivedersi in questa data, in questo avvenimento storico perché rappresenta davvero la difesa degli interessi dei Lombardi e va a cozzare con quello che oggi sta facendo o buona parte di quello che oggi sta facendo la Giunta del Presidente Maroni. Vorrei anche ricordare, il Presidente Alfieri diceva che non è un elemento di unità e non rappresenta un elemento di unità questa data. Io sono andato a farmi alcune ricerche e ho trovato che all'interno dell'ino di Mameli, oltre alla città di Roma, l'unica città che viene citata è la città di Legnano e nel passaggio dove dice dall'Alpi a Sicilia, dovunque Legnano. Questo passaggio per me è molto significativo, vuol dire che non rappresenta solo l'unità della Lombardia, non rappresenta solo i cittadini lombardi, questo avvenimento storico, ma rappresenta anche l'Italia tutta di alcune istituzioni che si fanno carico della difesa dei propri cittadini e li difendono da agenti esterni che potrebbero causargli dei problemi o che sicuramente gli avrebbero causato dei problemi che li avrebbero privati della libertà. Quindi secondo noi è molto importante la difesa del cittadino, portare avanti l'interesse del cittadino e ci auguriamo che oggi il fatto che si voti questa data e questo avvenimento possa rafforzare il fatto che bisogna guardare al di fuori di quest'Aula e portare avanti le stanze quello che ci viene richiesto ed evitare di favorire lobby colate di cemento e cose che oggi i cittadini lombardi non vogliono e non ne sentono il bisogno. Grazie. Nell'annunciare il voto favorevole a questo provvedimento speravo che non si facesse campanilismo, non si parlasse di neocentralismo, non si cercasse di mettere il cappello su questa iniziativa. Noi comunque in ogni caso ribadiamo il nostro voto favorevole nonostante ancora una volta la politica non abbia capito che bisogna entrarne contenuti invece di cercare di viaggiare sulla cresta dell'onda e di intitelarsi e di mettersi il cappello sulle questioni. Questo ha rivolto anche ai giornalisti che sicuramente domani scriveranno che il Movimento 5 Stelle di Lombardia si è appiattito sulla Lega e leghista. Il Movimento 5 Stelle di Lombardia ha deciso di condividere una data che è la festa e l'identità. Per favore, per favore. Chiedo all'Aula un attimo di attenzione, per favore. Grazie Presidente. Questa giornata è l'identità, deve essere l'identità di tutti i Lombardi come già stato detto in discussione generale e vorrei anche ricordare a questa maggioranza ma all'Aula tutta che ci sono anche altri provvedimenti che sono urgenti per i cittadini Lombardi. Prendendo spunto da quello che è stato un evento storico, spero che si possa mettere l'acceleratore nell'interesse dei cittadini. Parliamo di provvedimenti come i contratti di solidarietà oppure addirittura la richiesta di fusione di tre comuni della Bergamasca che sembra che venga prorogata e ci si mette di traverso quando c'è la volontà popolare ad unirsi. Quindi se vogliamo prendere esempio da questo avvenimento storico cerchiamo di accelerare, cerchiamo di ascoltare più i cittadini Lombardi che ad oggi non mi pare che siano così ascoltati. Grazie. Grazie.